Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Nel video di oggi mi vedrete realizzare un semi permanente con rinforzo utilizzando questi bellissimi colori che sono Ripe Cherry e Shiny Rose di Neonail. Mi vedrete anche utilizzare per la prima volta unica base di Nail Over che è una new entry per me perché l'ho comprata da poco e ho deciso di utilizzarla su questa ragazza perché ha delle unghie con una piccola problematica quindi questo prodotto dice di essere miracoloso, di garantire una tenuta ottimale e quindi l'ho voluto provare. Vorrei fare un piccolo inciso nel video di oggi perché voglio ringraziarvi perché siete arrivati a 1000 iscritti, quindi siamo 1000 iscritti qui sul mio canale vi voglio ringraziare dal più profondo del mio cuore perché per me è un traguardo enorme e veramente grazie, grazie, grazie. Quindi, preparate una tazza di caffè o di tè, quello che vi piace di più godetevi il video in completo relax io vi mando un grosso bacio, vi aspetto al prossimo video Ciao! 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 Ciao!